Siamo pronti a cantare? Non lo sapete questo canto, l'abbiamo fatto un ruolo a livello di tornetto, ascitando i rami sull'Ivole Rosanna il senso della festa, della gioia non vuol dire condizione, non vuol dire piazzo, ma vuol dire esultanza, gioia, netizia del Signore Siamo pronti, diamo il gruppo trappo al centro della piazza arrivi a tutti coloro che sono nelle case il nostro indossione, la nostra gioia è il Cristo che 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 è il Cristo Siamo pronti a cantare Siamo pronti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.